Sono arrivati da tutta la Lombardia in rappresentanza di tutte le delegazioni regionali tecnici del soccorso alpino che questo sabato 7 maggio hanno partecipato a Cerete e a Clusone in provincia di Bergamo ad una maxi esercitazione di soccorso in Forra. Il soccorso alpino Lombardo dispone infatti di una squadra regionale con i soccorritori specializzati proprio negli interventi in Forra. La loro azione tuttavia non si limita ad operazioni che riguardano chi si infortuna durante la pratica di particolari attività sportive come il canyoning ma diventa fondamentale per esempio anche nelle ricerche di persone disperse quando sono presenti corsi d'acqua e torrenti dove è necessario calarsi. La prima parte della giornata si è svolta a Clusone al centro operativo con la parte teorica in aula in presenza di due istruttori del CNAS, uno nazionale, uno regionale e di due istruttori tecnici regionali. Una ventina di partecipanti provenienti come detto da tutta la Lombardia. La seconda parte dell'esercitazione si è tenuta nella Forra secca di Cerite e ha riguardato in particolare le manovre di aggiornamento su presidi sanitari da utilizzare durante gli interventi. Lo scenario di Forra secca, cioè senza l'acqua, ha consentito di focalizzare la simulazione sul trattamento del ferito e sulla gestione degli aspetti cruciali del soccorso sanitario. L'esercitazione fa parte di un programma periodico al cui i tecnici sono tenuti a partecipare ed è un momento tecnico importante ma serve anche per rafforzare la coesione tra i soccoritori provenienti dalle diverse delegazioni sparse su tutto il territorio della Lombardia.